I Brasili sono morti i preditori! Posso andare? Allora, questi sono i veri colori nostri, questi sono i colori dell'orgoglio, quelli che non moriranno mai. Il mio non vuole essere né un ricordo di un gol da calcio d'angolo, né il ricordo del 3-2 col Parma, non vuole essere il 2-2 con l'Inter, vogliono essere solo questi colori il ricordo. Questi colori non moriranno mai, sempre, anche in Serie D, in eccellenza. Il ricordo sono questi ragazzi qua che stanno qui alle 7 del mezzo del pomeriggio, il ricordo siamo sempre stati solo noi in quella curva sud e in tutto lo stadio. Né imprenditori, né amministratori, nessuno. La domanda che vi dovete fare è dove sono i professionisti che accompagnavano Casillo e si facevano chiamare presidenti? Vedete dove sono, chiedetevi dove sono. I nobili di Foggia, a quelli ci dobbiamo rivolgere. La colpa non è solo di Casillo, rimaniamo soltanto noi, restiamo soltanto noi con il nostro orgoglio e con questi colori e i nostri ricordi che restano dentro e non li diciamo a nessuno.